Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo Roma Alto Medievale. Paesaggio urbano, società e cultura nei secoli V-X, a cura di Riccardo Sant'Angeli Valenzani, che abbiamo il piacere di avere il nostro gravito ospite al quale con la mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questo volume. Prego professore, a lei. Grazie. Il libro sostanzialmente nasce da una proposta che lo stesso editore Carocci mi aveva fatto tempo fa di riprendere il tema Roma Alto Medievale su cui anni fa, ormai nel 2004, quindi ormai vent'anni fa quasi, avevo scritto insieme a un amico e collega Roberto Meneghini un volume, appunto Roma nell'Alto Medioevo, ma la velocità con cui le scoperte archeologiche e le interpretazioni storiche su questo tema, cioè sulla Roma dei primi secoli del Medioevo e l'imponente aumento della bibliografia relativa, ha fatto sì che quel volume, dopo meno di vent'anni, fosse ormai su molti aspetti da rivedere. E quindi Carocci mi aveva proposto di rivederlo, di scrivere un nuovo libro sostanzialmente sulla tematica di Roma Alto Medievale. Io ho cominciato un po' a buttare giù un piano dell'opera, però mi sono reso conto rapidissimamente che se volevo darne una visione della Roma di questi secoli in qualche modo complessiva, completa, ovviamente completa è una parola che non bisognerebbe ma usare in questi casi, ma insomma il più ricca possibile avrei dovuto affrontare anche molti aspetti che esulavano dalle mie competenze. Io sono un archeologo, sono un professore di archeologia medievale all'Università di Roma III e ho delle mie specifiche competenze di archeologo, però volendo dare una visione appunto ampia e complessiva della Roma di questi secoli volevo metterci dentro anche parti relative alla storia dell'arte, relative alla storia istituzionale, alla cultura e quindi ho pensato di coinvolgere nell'impresa una serie di colleghi e amici che sono specialisti in questi campi, alcuni della mia stessa università, altri colleghi di altre università, di altri enti di ricerca e quindi ho fatto un piano dell'opera, i colleghi hanno tutti accettato molto cortesemente di partecipare a questa impresa che è stata abbastanza lunga e difficile perché proprio quando abbiamo cominciato a mettersi al lavoro è scoppiata la pandemia e questo ci ha provocato parecchi ritardi perché ovviamente con la pandemia hanno chiuso pure le biblioteche e quindi fare ricerca è diventato piuttosto complesso e quindi c'è stato un come dire i tempi si sono allungati rispetto a quella che erano le previsioni però alla fine poi ne siamo arrivati a capo, fortunatamente le biblioteche hanno riaperto ma è ovvio che su molte cose uno può lavorare anche con la base di quello che ha a casa, quello che conosce, quello che si trova su internet però è ovvio che poi c'è bisogno di una revisione, di un ricontrollo bibliografico completo perché abbiamo dovuto riaspettare la riapertura delle biblioteche. Posso, come dire, dare una scorsa ai capitoli del libro in modo da dare un'idea generale delle varie parti che affrontiamo, c'è un primo capitolo che si chiama La Storia e che è diviso diciamo in due sottocapitoli, uno che ho scritto io personalmente che è una specie di introduzione storiografica, Roma Alto Medievale è un tema storiografico in cui un po' faccio la storia degli studi su Roma Alto Medievale e poi una parte sugli eventi perché comunque anche se certo diciamo la storiografia moderna, la storiografia della seconda metà del ventesimo, dalla seconda metà del ventesimo secolo, dalla scuola delle Annale ha abbandonato la visione eventografica, cioè la storia come racconto degli eventi però inevitabilmente è necessario sapere, conoscere a grandi linee se non altro quello che è successo e questa parte l'ha scritta Giulia Facchin. Poi c'è un capitolo secondo che è il paesaggio urbano che ho scritto tutto io, che è diviso in varie sottocapitoli, abitato e disabitato, le forme dell'abitare, cioè come si abita, che tipologie di edilizie ci sono, sulle chiese, sulle infrastrutture urbane eccetera. Poi c'è un terzo capitolo che è le strutture del potere, scritto dal collega Andrea Antonio Verardi sulle liceti egemoni, sulla trasformazione delle classi egemoni e quindi sulla struttura sociale e sulle strutture del potere della Roma Alto Medievale. Un quarto capitolo che è la cultura scritta di Serena Ammirati, che tratta sia dei libri, quindi della cultura scritta, dei copisti, dell'iscriptoria di Roma, ma anche dei documenti e delle epigrafi. Poi c'è un capitolo economia, produzione e commerci, che di nuovo l'ho scritto io. Poi c'è il capitolo sulla storia dell'arte, che è stato scritto da due miei colleghi dell'Università di Roma 3, Antonella Ballardini e Giulia Bordi, che si sono occupati una della scultura e l'altra della pittura. C'è un settimo capitolo che è Vivere e Morire a Roma, che di nuovo è diviso in due parti, in più parti, un paragrafo sulla demografia di Roma, che ho scritto io, uno sui pellegrini stranieri e viaggiatori, che pure ho scritto io, e uno sugli spazi dei defunti, che ovviamente per gli archeologi il tema dell'archeologia funeraria è sempre un tema centrale, che è scritto da Roberto Meniglini. Infine, un capitolo che contestualizza Roma nel suo territorio, quindi la città e il territorio, che è stato scritto per la gran parte, diciamo, da Lucrezia Spera, che è una celebre archeologa e collega dell'Università di Tor Vergata, e una piccola parte che è sulla formazione del paesaggio rurale del non e decimo secolo, cioè sull'ultima parte, sulle trasformazioni che il paesaggio rurale e la campagna romana hanno nell'ultimo tranche del periodo che prendiamo in considerazione in questo libro, che ho scritto io. E poi ovviamente c'è una ricchissima bibliografia che da sola occupa 40 pagine e che dovrebbe servire un po' come stato dell'arte sugli studi di Roma alto medievale in questo momento, che come vi dicevo prima è un tema, è un argomento che recentemente ha avuto tantissimi interventi importanti, perché proprio in questi ultimissimi anni, poco prima che uscisse questo libro curato da me, ne sono usciti altri estremamente importanti, c'è un libro sempre edito da Carocci, che è Roma all'inizio del Medioevo, di Paolo De Logo, che è stato, come chi si occupa di storia medievale, ed è tuttora uno dei più grandi storici del Medioevo che abbiamo in Italia. Daniele Manacorda ha scritto un libro molto importante, Paisaggi di Roma Medievale, che raccoglie tanti suoi scritti, ma anche un altro libro sulla storia delle due città, cioè che tratta di Roma sia nell'alto ma anche nel basso Medioevo, che fa una storia della crescita dei livelli della città. Sono usciti, nell'ultimo anno, sono uscito un altro importante libro di Hendricks Day, che è uno studioso americano che poi si occupa molto di Roma. Cioè c'è stata veramente una concentrazione importante di testi molto significativi e molto importanti, che trattano del tema di Roma alto medievale. Questo libro, appena uscito da Carocci, perché sarà, credo, distribuito proprio tra oggi e domani, dovrebbe essere distribuito in biblioteca e nelle librerie, è l'ultimo per ora di una catena che ha portato questa tematica, cioè la Roma del primo Medioevo, che fino a non tanti anni fa in realtà era un tema molto poco battuto, che l'ha portata invece proprio sulla linea del fronte, diciamo delle ricerche storiche archeologiche. Quali sono le considerazioni più significative? Perché in effetti noi di Roma abbiamo un'idea che è quella della capitale dell'impero romano, dell'evestigia dell'impero romano. Nell'alto medioevo, che tipo di città avevamo davanti? Eh, come dicevo, questo è un tema che è stato molto difficile mettere a fuoco per moltissimo tempo, cioè le trattazioni su Roma alto medievale, per molto tempo, e diciamo più in generale, per le città alto medievale, per molto tempo sono state praticamente dominate o tutte segnate dalle domande oppure dalle osservazioni sul fatto se alcune cose che si conoscevano del mondo antico c'erano ancora o se le cose che invece sarebbero poi esplose nella città comunale, nella città basso medievale, se c'erano già. Cioè, per tanto tempo l'alto medioevo è stato visto non come un periodo con una sua struttura, come un modello di città a sé stante specifico, ma come una qualcosa di passaggio in cui c'era ancora qualcosa del vecchio, ancora non c'era tutto quello del nuovo, ma cominciava a formarsi qualcosa del nuovo, ma schiacciato tra queste due realtà così imponenti anche da un punto di vista monumentale, strutturale proprio, cioè della città antica, imperiale e della città basso medievale, veniva inevitabilmente a essere appunto, come dicevo, schiacciato, a diventare quasi invisibile. E la particolarità è che in effetti da un punto di vista monumentale non è molto visibile. A Roma c'è rimasto pochissime cose che noi possiamo datare, che vediamo ancora, che tocchiamo ancora in elevato, girando per la città relativa all'epoca alto medievale. Mentre continuamente, ovviamente, ci troviamo di fronte alla città antica, continuamente ci troviamo di fronte ai resti delle strutture basso medievali, e a Roma naturalmente, specialmente quelle poi rinascimentali e barocche, l'alto medioevo è molto poco rappresentato monumentalmente nel territorio oggi della città. Bisogna un po' andarsela a cercare le realtà alto medievali, perché anche le chiese, ovviamente, molte delle chiese di Roma hanno dovuto una fase alto medievale o sono state costruite proprio nell'alto medioevo, ma sono state poi tutte completamente ritrasformate sostanzialmente nel rinascimento e in epoca barocca. Tantissime sono scomparse, specialmente nel quindicesimo secolo, e tutte le altre sono state trasformate, e quindi oggi, di nuovo, è molto difficile vederlo. Com'era la città alto medievale? La città alto medievale sostanzialmente segue dei modelli che sono, diciamo, abbastanza comuni nelle città alto medievale italiane, che a Roma, con dei fenomeni che a Roma spesso durano di più rispetto alle altre città, come ad esempio il fatto, innanzitutto, naturalmente, di essere città che hanno subito una fortissima crisi demografica, che a Roma è molto più evidente che in tante altre parti d'Italia, in tante altre città d'Italia. In pratica, nel giro di qualche decina d'anni, di un mezzo secolo, tra la fine del quinto e l'inizio del sesto secolo, la popolazione di Roma crolla di circa il 90%, da un ordine di grandezza di centinaia di migliaia si passa ad un ordine di grandezza di decine di migliaia. Questo però non comporta, come per molto tempo si è pensato, ma oggi sappiamo invece che questo non è accaduto, non comporta già dall'alto medioevo una riduzione dell'area abitata, quella che poi sarà invece evidente nella Roma del basso medioevo, del rinascimento, ma in realtà fino all'unità d'Italia, fino al 1870, dove la popolazione abitava tutta in una zona ristretta della zona compresa all'interno delle mura, abitava più o meno nella zona dell'Ansa del Tevere, e tutto il resto era un disabitato, tenuto a vigne, orti, ma comunque non abitato. Ecco, nell'alto medioevo questo processo ancora non è accaduto, o sta accadendo, diciamo lo cogliamo mentre sta accadendo, ma la popolazione viveva, si abitava ancora anche nelle zone periferiche della città, ma appunto con una densità molto bassa. Quindi dobbiamo immaginare una popolazione in molti casi raggruppata in aree di popolamento separate da zone invece utilizzate come zone coltivate o come cimiteri o addirittura semplicemente abbandonate. È quel modello che è stato visto anche in altre città italiane, specialmente del nord Italia, che viene definito della città polinucleata o della città isole, cioè nuclei di popolamento all'interno dello spazio urbano. A Roma questo probabilmente dura di più. Nelle altre città l'agglomerazione della popolazione, quindi il compattamento del tessuto edilizio avviene già nelle fasi centrali dell'alto medioevo, nell'ottavo, nono secolo. A Roma ancora nel decimo secolo abbiamo attestazione di nuclei di popolazione che vivevano in aree molto periferiche e quindi l'accorpamento della città nella zona dell'Ansa del Tevere è un fenomeno che deve essersi completato nell'undicesimo-dodicesimo secolo. E naturalmente il livello del tipo dell'edilizia è un'edilizia diciamo assolutamente non monumentale. per quanto riguarda l'edilizia abitativa, non conosciamo moltissimo da un punto di vista archeologico, però quelle strutture che conosciamo ci mostrano sostanzialmente una doppia tipologia edilizia, la tipologia edilizia relative alle classi egemoni, alle classi alte della società, le aristocrazie che erano costruite con materiali durevoli, erano strutture a due piani, avevano quindi anche una consistenza strutturale monumentale di un certo tipo, mentre la massa della popolazione doveva vivere in delle case come quelle per esempio che sono state scavate, che io personalmente ho avuto la fortuna di scavare nel foro di Cesare ormai molti anni fa, che sono sostanzialmente delle capanne costruite in argilla cruda con un tetto di paglia o di legno e un pavimento fatto di terra abbattuta con un focolare, quindi strutture molto semplici, ancora nel X secolo, quindi da un punto di vista strutturale monumentale dell'edilizia residenziale, le tipologie edilizie sono in questa fase ancora molto molto semplici da un punto di vista strutturale. Quindi una Roma irriconoscibile agli occhi di un moderno. Una Roma sostanzialmente irriconoscibile, ma comunque con una sua organizzazione, con una sua struttura. Ecco, non dobbiamo cadere nell'idea di pensare a questo alto medioevo come una fase, diciamo, di, no, come i secoli oscuri, in te si genera, è generalmente quindi come una fase di completa decadenza della cultura, così non è stato. Diciamo nel libro, anche i colleghi che ci mostrano, parlano della storia dell'arte o della cultura, indicano chiaramente come vi fosse... Roma continua a essere, nonostante tutto, anche questa Roma, in quel periodo, è comunque la città più grande dell'Occidente. Continua a essere la città più grande dell'Occidente. Poi c'è Costantinopoli, ovviamente, che è più grande, ma in Italia e in Europa Roma continua a essere una città non solo importantissima da un punto di vista politico, religioso, perché è sede del papato, perché è la città dove gli imperatori devono venire a farsi incoronare, eccetera, ma anche da un punto di vista proprio di struttura urbana continua in un quadro generale, ovviamente, abbastanza di difficoltà e decadenza della forma urbana, come è stato l'Alto Medioevo, specialmente fuori d'Italia, ma anche in gran parte d'Italia, Roma continua a essere la città più grande e più importante dell'Occidente, anche se non è la capitale del Regno Longobardo, è Pavia, altra città importante, ma Roma è sicuramente molto più grande, molto più popolata. Comunque parliamo di un ordine di grandezza di popolazione che, secondo me, nel libro, nel capitolo sulla demografia, cerco di giustificarlo, ma ancora deve conteggiarsi intorno alle 50.000, comunque a decine di migliaia di persone. Questa è una concentrazione di popolazione che in quegli anni, in quei secoli, è in Europa eccezionale ancora. Quindi vale la pena di… ma se uno volesse cercare le tracce oggi girando per la città potrebbe vedere qualcosa di ancora visibile? Diciamo che le tracce più visibili oggi si hanno certamente nella zona dei fori imperiali. Nella zona dei fori imperiali gli scavi hanno messo in luce e sono ancora visibili, per esempio i resti di strutture relative a delle abitazioni delle aristocrazie, quelle che stavo descrivendo prima, queste strutture a due piani, costruite in materiali durevoli, con blocchi di tufo reimpiegati dalle strutture antiche, con mattoni di reimpiego, che comunque sono strutture che hanno una loro monumentalità e che si datano al IX secolo. si vedono ancora nel foro di Nero, anche solo passando per via dei fori imperiali, affacciandosi, si vedono bene, passando da via dei fori imperiali si vedono, ma visitando invece all'interno i fori imperiali, nel foro di Cesare, si vedono ancora i resti invece di quelle altre case della massa della popolazione che dicevo prima, con le pareti costruite in sassi, pietre, su cui poi poggiava l'alzato in argilla cruda. Poi naturalmente ci sono delle chiese, come dicevo, la maggior parte delle chiese sono state poi in realtà ristrutturate in epoca successiva, però ci sono specialmente lavori e restauri tardo ottocenteschi, novecenteschi, hanno in più casi messo in luce strutture che sono riferibili alle fasi alto medievali delle chiese. Se faccio un caso, il primo che mi viene in mente, per esempio, è San Martino ai Monti. A San Martino ai Monti c'è tutta una parete costruita in blocchi, visibile, che risale al rifacimento della chiesa, che è appunto della fine dell'ottavo secolo. Molte altre cose sono state messe in luce dagli scavi e oggi sono state ricoperte, ovviamente. Non si vede molto, però quello che si vede può essere significativo, è significativo. E poi naturalmente c'era, dico c'era perché in questo momento è chiuso, il museo di Grittabalbi, il museo dell'Alto Medioevo a Roma di Grittabalbi, che aveva tutta una parte che proprio raccontava la Roma alto medievale e c'era un percorso archeologico che consentiva di vedere parti delle strutture alto medievali di quell'isolato presso via delle Bottego Scure. Uso l'imperfetto, il passato, perché in questo momento è chiuso perché è in corso un ampio lavoro di ristrutturazione che dovrebbe essere pronto per il giubileo, in cui sarà molto ampliato e trasformato, e trasformato proprio nel museo della Roma dell'Alto Medioevo, della Roma medievale, della Roma alto medievale sostanzialmente. E quindi appena sarà riaperto, quello diventerà sicuramente il polo per la meta di chiunque si interessi dell'Alto Medioevo a Roma, perché proprio sarà un museo intero a raccontare la Roma della tarda anticità e dell'Alto Medioevo. Bene, io credo per il momento di aver detto tutto, no, tutto no, ma insomma, buona parte di aver stimolato soprattutto il desiderio di acquistare il libro, perché poi questo è anche lo scopo per il quale noi facciamo queste videopresentazioni. Quindi ricordo il titolo, che è Roma alto medievale, paesaggio urbano, società e cultura, secoli, quinto, decimo. Pubblicato da pochissimo da Carocci, a cura di Riccardo Sant'Angeli Valenzani, che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gravississimo ospite, e a tutti i nostri utenti ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove insieme a questa troveranno anche tutte le videopresentazioni realizzate finora. Grazie ancora professore e a presto. Grazie a lei. Grazie, a presto. Grazie a lei. Grazie, a presto. Grazie.